Ragazzi un saluto dal vostro amato amatissimo Bianconero e in Serie A la Juve finalmente ottiene il rinnovo dei 15 punti, riottiene i 15 punti persi. Adesso siamo al terzo posto, due punti in meno rispetto alla Lazio, comunque finalmente siamo in zona Champions League anche se le ultime partite le abbiamo giocate in maniera più che pessima. Partita di UEFA Europa League contro lo Sporting, nulla da dire, la Juventus ha giocato in maniera schifosa, 1-1, prima gol di Rabiot, poi il gol dello Sporting su un calcio di rigore di cui non so il nome di questo giocatore. Nell'arco di 95 minuti la Juventus non è riuscita a segnare, certo ha avuto delle occasioni come lo Sporting, ma allo stesso tempo ha giocato più che male, malissimo direi, e a me non dispiace nemmeno perché adesso noi ci scontiamo contro il Sevilla, il Sevilla ha vinto in totale 5-2 contro il Manchester United, 2-2 all'andata, 3-0 al ritorno. Bene, la semifinale sarà Juve-Juve-Sivilla, eh, la Roma becca il Leverkusen, penso, è un'altra squadra di cui non so, ma non c'è nulla da dire. La Juventus ottiene 15 punti, va bene, ma in Europa League, ragazzi, andrà a finire male, me lo sento. Grazie a tutti.